Qua mi scrivono Mirka Bionda, boh, non si legge? Allora, come non si legge? Leggi, fallo vedere al pubblico, ecco qua. Mirka Bionda, Casalena, boh, non lo so, vabbè. Cassiera, ahhh, le hanno sopronominate le Cassiere, ragazzi. In realtà non sono loro le Cassiere, ma loro sono coloro che danno i numeri, come si vuol dire. Non è firmato, è come sparare in aria. Ehi, ehi, sta arrivando Sergio, singolo anche lui. Ehi, ehi, danni uno al corteggiatore. Vai, mangia male, io non lo voglio. No, non mi ispiro neanche. Mangi un secondo. Ecco qua. Bene, bene. Ragazzi, il numero 43 ancora. È la nostra Selene, vero? La nostra professionista dello spettacolo. Selene. Un altro messaggio per te. Complimenti. Bene, stai andando alla grande. Bene. Stasera veramente si va alla grande. A parte che è sempre a Capodanno stasera. Siamo veramente tantissimi, ragazzi, eh. Bene, bene. Avanti ancora. Ancora la 50. Insomma, ma questa 50 non lo so che cosa abbia, ma... Ha già ricevuto tre messaggi in pochissimo tempo. Io ormai mi trasferisco qua da te. Sì. 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 Sì.